La questione del non ci indurre in tentazione e con la nuova traduzione, anzi con il nuovo tradimento del Padre Nostro imposto dalla conferenza episcopale italiana che ha alterato il Padre Nostro aggiungendo dei significati che non ci sono mai stati nella preghiera di Gesù, come non abbandonarci la tentazione o altra roba, è una questione di capitale importanza. Vedete oggi che la fede in gran parte si è persa, si è buttata via, si è dilapidata, si è dissipata colpevolmente perché la si era ricevuta nella sua interezza, non si vuole più lo strumento stesso della salvezza e uno degli strumenti fondamentali della salvezza è proprio la tentazione, tanto che i padri del deserto dicevano togli le tentazioni e nessuno si salva. Voglio leggervi anche per quelli che hanno diffidenza nei confronti di Maria Valtorta, ma prendete queste che vi leggo per parole di sapienza anche solamente umana ispirata al Vangelo e per chi invece crede che sia veramente qualcosa di soprannaturale lo prenda per quello che ritiene che sia. Nei quaderni del 43 all'1 di luglio trovo una parte proprio dedicata alle tentazioni e alla loro importanza, anzi alla loro fondamentale importanza per la salvezza, per l'espiazione, per la redenzione. Dice Gesù che un'anima provi tentazioni non deve stupire, la tentazione è anzi più violenta quanto più la creatura è avanzata nella mia via. Satana è invidioso e astuto, quindi spiega la sua intelligenza dove occorre più sforzo per strappare un'anima al cielo. Un uomo di mondo che vive per la carne non c'è bisogno di tentarlo. A questo proposito mi ricordo proprio un altro detto dei padri del deserto quando va da lui un discepolo e gli dice padre sono tentato dal demonio e questo anziano eremita gli dice tu tentato dal demonio? Ma scherzi, il demonio non ha tempo da perdere con te, tu sei tentato dalla tua carne, sei tentato dalle tue debolezze, il demonio tenta i santi, non tenta la gente come te. Ecco, allora ritornando qui alle parole di Gesù a Maria Valtorta, un uomo di mondo che vive per la carne non c'è bisogno di tentarlo. Satana sa già che egli lavora già di suo per uccidere la sua anima e lo lascia fare, ma un'anima che vuole essere di Dio attira tutto il suo livore. Ma le anime non devono tremare, non devono accasciarsi. Essere tentati non è un male. Quante volte sentiamo delle persone che hanno una visione limitata, limitatissima, banale, sbagliata di Dio che dicono Dio non tenta il male, è il demonio che tenta il male, sbagliato. Dio ti porta al peccato, Dio non ti porta al peccato, ti induce in tentazione, ma non al peccato, è il demonio che ti porta a peccare. Allora, essere tentati, dice Gesù, non è un male, è male cedere alla tentazione. Vi sono le grandi tentazioni, davanti ad esse le anime rette si mettono subito in difesa, ma vi sono le piccole tentazioni che possono farvi cadere senza che ve ne accorgiate. Sono le armi raffinate del nemico, le usa quando vede che l'anima è guardinga e attenta per le grandi. Allora trascura i grandi mezzi e ricorre a questi, così sottili che entrano in voi da qualunque parte. Perché permetto questo? Dove sarebbe il merito se non ci fosse la lotta? Potreste dirvi miei se non beveste il mio calice? Cosa credete, che il mio calice sia stato soltanto quello del dolore? No, creature che mi amate. Cristo, egli ve lo dice per darvi coraggio, ha provato prima di voi la tentazione. Non dimentichiamo, faccio una parentesi, che lo Spirito Santo portò Gesù nel deserto perché fosse tentato, dice il Vangelo. Alle persone ignoranti o sciocche o stolte o eretiche che dicono che no, che Dio non induce in tentazioni, dico andate a rileggervi il Vangelo e leggetevelo e scoprite quanto sbagliate sono le vostre idee, che volete togliere la tentazione e in questo modo togliete lo strumento che Dio ha voluto, ha scelto per la salvezza e se si toglie lo strumento di salvezza nessuno più si salva, come dicono i padri del deserto. Continuiamo. Credete voi che fu solo quella del deserto la tentazione? No, allora Satana fu vinto con grandi mezzi opposti ai suoi grandi tentativi, ma in verità vi dico che io e il Cristo fui tentato altre volte. Il Vangelo non lo dice, ma come dice il prediletto, se si avessero a narrare tutti i miracoli fatti da Gesù, la terra non basterebbe a contenere i libri. Riflettete, discepoli cari, quante volte Satana non avrà tentato il figlio dell'uomo per persuaderlo a desistere dalla sua evangelizzazione? Cosa conoscete voi delle stanchezze della carne affaticata nel continuo pellegrinare, nel continuo evangelizzare e delle stanchezze dell'anima che si vedeva e sentiva circondata da nemici e da anime che lo seguivano per curiosità o per speranza di un utile umano? Quante volte nei momenti di solitudine il tentatore mi circuiva con l'accasciamento? E nella notte del Gezzemani non ci pensate con quale raffinatezza egli ha cercato di vincere l'ultima battaglia fra il salvatore dell'umano genere e l'inferno? Non è dato a mente umana a conoscere e penetrare nel segreto di quella lotta fra il divino e il demoniaco. Solo io che l'ho vissuta la conosco e perciò vi dico che io sono dove è chi soffre per il bene, io sono dove è un mio continuatore, io sono dove è un piccolo Cristo, io sono dove il sacrificio si consuma e vi dico, anime che espiate per tutti, vi dico non temete, fino alla fine io sono con voi, io il Cristo ho vinto il mondo, la morte e il demonio, apprezzo del mio sangue, ma do a voi, anime vittime, il mio sangue contro il veleno di Lucifero. E qui mi fermo nella citazione. Vedete questa è una cosa straordinaria, vuol dire che noi attraverso le tentazioni, attraverso le sofferenze, attraverso le malattie, attraverso le frustrazioni, gli accasciamenti, le paure, i terrori, i problemi, le sofferenze che abbiamo, possiamo espiare, possiamo compiere nel nostro corpo, completare nel nostro corpo quello che manca alla passione di Cristo, come dice San Paolo. Possiamo prendere su di noi il peccato del mondo, soffrire insieme le sofferenze di Cristo, le nostre sofferenze sono piccole rispetto a quelle di Cristo, ma unite alle sue diventano infinite, diventano un merito infinito, non per merito nostro, ma per i meriti della sofferenza ispiativa e redentiva di Cristo. La nostra vita viene trasfigurata completamente. Noi possiamo soffrire come delle bestie, ma la nostra sofferenza diventa inutile, anzi addirittura diventa qualcosa che ci schiaccia, ci può far andare all'inferno. C'è chi davanti alla croce, alla sofferenza, si danna perché bestemmia Dio, perché si ribella, perché rifiuta lo strumento che Dio ha scelto per la salvezza e chi invece attraverso la stessa sofferenza o più grande ancora, si santifica ed espia e paga anche per gli altri. Bene, noi offriamo le nostre sofferenze, le nostre paure, i nostri problemi per i nostri peccati, per la nostra anima, ma anche per quella degli altri e in particolare per i nostri nemici. Guardate Cristo cosa ha fatto. Cristo ha offerto la sua passione per quelli che lo stavano crocifiggendo, mentendo, accusandolo ingiustamente, ma guardiamo anche la Vergine Maria cosa ha fatto davanti a quelli che accusavano ingiustamente suo figlio, la carne della sua carne, una mamma che vede suo figlio ingiustamente accusato, torturato orrendamente. Qual è stato l'atteggiamento di Maria? Se non ci sentiamo abbastanza forti per fare come Cristo, e uno dice ma Cristo era Dio, sì sì era Dio ma era veramente uomo anche, e quindi come noi. Guardiamo la Santa Vergine Maria, cosa ha fatto? Lei piangeva senza dubbio, soffriva tremendamente e conservava tutte queste cose nel suo cuore, non minacciava vendetta, ma si univa ancora di più alle sofferenze di Cristo, redimendo anche lei insieme a Cristo, questa generazione tortuosa e perversa. Bene, anche noi possiamo fare lo stesso, aggrappiamoci a Gesù, aggrappiamoci alla sua passione, alla passione della Santa Vergine Maria unita a quella di Cristo per redimere il mondo e così trasfigureremo la nostra vita trasformando il male che stiamo vivendo, in particolare in questi tempi di guerra parasanitaria contro le persone, da parte di una dittatura mondiale, trasformeremo tutto in un bene e allora possiamo davvero benedire Dio per le sofferenze che abbiamo, per la situazione in cui ci troviamo, per le tentazioni in cui siamo indotti da Dio perché questo ci aiuta a espiare, a pagare per i nostri ed altrui peccati, a diventare corredentori. Fede e cultura di Giovanni Zenone per conservare la fede, la ragione e il gusto della vita.